Google lancia al suo servizio SMS, sfida WhatsApp e iMessage. Parliamo di questo su Revenues con me, io sono Elena. SMS e Google non sono più due mondi distinti. Il colosso della Mountain View scende in campo nella messaggistica. Questa è solo l'ultima novità che arriva dalla Silicon Valley. Già attivo in Francia e anche in Inghilterra, questo SMS 2.0 di Google permette di inviare contenuti multimediali come video, foto e documenti insieme anche ad un piccolo testo. Il lancio nel resto d'Europa sarebbe imminente e questa applicazione permetterebbe anche per il sistema Android di inviare SMS proprio come avviene di già in campo iOS con iMessage. Resta tuttavia un piccolo problema sulla sicurezza perché Google non è ancora riuscito a garantire la criptografia end-to-end per intendersi quella che è già presente su WhatsApp.